Stato di emergenza fino al 15 ottobre, il Senato vota la risoluzione di maggioranza. Oggi Conte sarà alla Camera, in serata ci sarà il Consiglio dei Ministri per dargli via libera definitivo. Il Premier definisce la proroga come inevitabile e legittima, visto che il virus continua a circolare. Ma le opposizioni attaccano con Salvini sconcertato per un prolungamento senza motivazioni e la Meloni che parla di pericolosissima deriva liberticida. A fine agosto il Comitato Tecnico Scientifico farà la sua valutazione finale sulla riapertura delle scuole ma la Ministra dell'Istruzione Azzolina ribadisce il via alle elezioni per il 14 di settembre, poco più di un mese per garantire l'apertura dell'anno scolastico in sicurezza per studenti e professori e per farlo sono pronti sul tavolo 2 miliardi e 900 milioni di euro. Tre migranti uccisi e almeno altri due feriti da colpi d'arma da fuoco sparati dalla Guardia Costiera Lidica. Il bilancio del grave incidente avvenuto a destra di Tripoli durante le operazioni di sbarco di migranti intercettati in mare e riportati a terra. L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha chiesto un'indagine urgente. Ieri altri 123 profughi sono sbarcati a Lampedusa. Negli anticipi della 37esima giornata di campionato successi per Atalanta e Inter rispettivamente con Parma e Napoli. Sabato lo scontro diretto che deciderà il secondo posto in classifica. Chance anche per la Lazio che oggi ospita il Brescia, già retrocesso. La Juve campione d'Italia sarà di scena a Cagliari mentre a Udine in Lecce si gioca l'ultima occasione per restare in Serie A. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. In apertura la proroga dello stato di emergenza fino al 15 di ottobre. Votato ieri dal Senato che ha dato il via libera e oggi appunto è atteso il sì definitivo con il voto alla Camera. Uno stato di emergenza inevitabile ha detto Conte non è il momento di drammatizzare né di alimentare paure ingiustificate ma di garantire operatività per un ritorno alla normalità perché il virus, ha sottolineato il Premier, continua a circolare. I dati di ieri ci parlano di un incremento, 212 i casi positivi e 12 morti nelle ultime 24 ore. Durissimo lo scontro in aula con l'opposizione. Vediamo com'è andata. Stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre. Il governo ieri sera ha incassato il primo via libera al Senato con 157 sì, 125 contrari tra cui il 5 Stelle Crucioli già in dissenso con il Movimento e 3 astenuti. Oggi si replica alla Camera. Il momento peggiore è passato ma ora dobbiamo gestire la ripartenza senza abbassare la guardia. festeggia su Twitter il capo politico pentastellato Vito Crimi. Nessun allarmismo o drammatizzazione ma il virus circola e dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti per fermarlo avverte il segretario Dem Zingaretti e promette Di Maio vi assicuro che faremo il massimo per sostenere i cittadini. La maggioranza regge la prova del voto al Senato ma fissa dei paletti il primo sulla data del prolungamento dell'emergenza inizialmente prevista al 31 ottobre e poi sullo stop dell'uso di DPCM e delibere per fugare il rischio di un uomo solo al comando contro una maggiore partecipazione del Parlamento approvata anche la parte della mozione dell'opposizione che chiede il coinvolgimento delle regioni. Nessuna torsione autoritaria né allarmismo ma una misura legittima e inevitabile per dare continuità alla struttura e mettere in sicurezza il Paese le parole del Premier Conte in Aula Palazzo Madama che invita maggioranza e opposizione a convergere e a non ragionare su logiche precostituite linea che aveva già presentato ieri in mattinata nel Consiglio dei Ministri dopo aver concordato la proroga e che non convince il centrodestra la leader di Fratelli d'Italia Meloni parla di una pericolosissima deriva liberticida Forza Italia accusa il governo di voler imbavagliare il Paese e Salvini che già nel pomeriggio aveva chiamato il Presidente Mattarella per dare sfogo al proprio sconcerto attacca. L'emergenza c'è solo nella testa del governo Il tempo di lasciare il Senato che per conti inizia un'altra partita questa volta a Palazzo Chigi con il CAI, il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei è la prima riunione del governo sulle risorse del Recovery Fund presenti tutti i ministri insieme al Presidente della Conferenza delle Regioni di quello del Lanci e dei rappresentanti dell'UPI e dell'UCEM Intanto il governo è a lavoro sul decreto legge di agosto del quale ieri il Ministro dell'Economia Gualtieri ha presentato le misure principali un decreto legge rispetto al quale oggi verrà votato lo scostamento di bilancio secondo fonti parlamentari il centrodestra sarebbe intenzionato ad astenersi un'assenzione compatta di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che in una lettera aperta al Premier Conte hanno sottolineato che sullo scostamento di bilancio appunto non agiranno al buio Vediamo È atteso per oggi il via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio per 25 miliardi con il quale il governo punta a barare il decreto agosto una sorta di manovra estiva per dare sostegno alla ripresa post-Covid Le voci del decreto sono state illustrate ieri da Roberto Gualtieri nel corso di un'audizione parlamentare Secondo Banca Italia che ha preceduto il Ministro il PIL nel 2020 mostrerà una flessione di almeno 9,5 punti I dati più recenti, ha spiegato però Gualtieri mostrano che la nostra economia ha iniziato la risalita dal minimo registrato nel bimestre marzo-aprile Per questo, secondo il governo, si può cominciare a pensare a manovre più selettive a partire dalla proroga della cassa integrazione Covid che sarà estesa di altre 18 settimane ma con dei paletti basati probabilmente sui dati della fatturazione delle imprese Nel decreto ci saranno inoltre interventi per aiutare e sostenere le assunzioni a tempo indeterminato Si valuta anche un meccanismo di decontribuzione per incentivare le riaperture insieme ad una deroga alle norme sui contratti a termine che potranno essere rinnovati senza indicazioni di causali Sul fronte fiscale vi è libera la rateizzazione dei versamenti sospesi a marzo, aprile e maggio e rinviati a settembre spalmandoli su un orizzonte temporale che andrà probabilmente oltre l'anno Il governo sta anche studiando una proroga a fine anno della moratoria sui mutui Il decreto agosto infine conterrà fondi almeno per 5 miliardi e mezzo destinati a sostenere due dei settori più colpiti quello turistico e quello del mercato dell'auto E l'altro fronte su cui si lavora è quello della riapertura della scuola a settembre sul quale avrà l'ultima parola il comitato tecnico scientifico a fine agosto Intanto però si va avanti, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere ma anche fondi da impiegare L'ultima parola la metterà nero su bianco il comitato tecnico scientifico nella valutazione di fine agosto ma la strada è ormai tracciata Il 14 settembre riparte anche la scuola L'ha ripetito ieri in un'informativa alla Camera la ministra dell'istruzione a Zolina sulla stessa linea il ministro Speranza priorità è riaprire le scuole di ogni ordine e grado in totale sicurezza ha sottolineato il titolare della salute e per farlo sono pronti sul tavolo 2 miliardi e 900 milioni 1,6 già stanziati dal decreto rilancio poi altri 1,3 arriveranno dallo scostamento di bilancio risorse ingenti per affrontare il rientro in aula di 8 milioni di studenti tra appena 47 giorni Tanti ancora i nodi da sciogliere con i presidi alle prese con la riorganizzazione di orari, lezioni e spazi che in epoca Covid chiedono il ritorno del medico scolastico stiamo lavorando per cancellare le classi pollaio assicurato la ministra in Parlamento che ha annunciato a stretto giro la pubblicazione delle linee guida per il rientro a scuola dei più piccoli e ha rivolto un invito alla collaborazione la scuola sta facendo squadra è unita e lo stesso dovrebbe fare la politica ha detto a Zolina attaccata da più parti nelle ultime settimane proprio sulla gestione del dossier scuola a partire dalla ferba anche in monoposto sono 2,4 milioni quelli richiesti al ministero dai presidi e venerdì prossimo scadranno i termini del bando lampo indetto dal commissario Arcuri per riperirli entro il 31 di agosto una missione impossibile secondo i produttori uno spreco di denaro per altri su questo argomento letto diverse corbellerie si è difesa la ministra ogni euro speso per la scuola è un investimento per l'Italia altro tema scottante il personale scolastico il ministero ha chiesto 80.000 assunzioni a tempo indeterminato per la ripartenza cifre insufficienti per i sindacati serviranno almeno 85.000 docenti stimano le sigle della scuola più 21.000 collaboratori mentre continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste di Lampedusa dalla Libia arriva la notizia di un grave incidente vediamo cosa è successo si cerca di fare chiarezza sull'uccisione dei tre migranti sudanesi che hanno perso la vita a seguito di una sparatoria durante una delle ultime operazioni di sbarco gestite dalla guardia costiera libica ad est di Tripoli secondo l'organizzazione internazionale per le migrazioni infatti le autorità locali hanno iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti scesi da poco a terra avevano cercato di darsi alla fuga quattro migranti sono stati feriti e portati in ospedali vicini mentre gli altri sono stati trasferiti nei centri di detenzione l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sollecita un'indagine urgente unendosi alla condanna per quest'ultimo episodio già espressa dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che ribadisce la necessità di mettere in atto un sistema alternativo per condurre in porti sicuri le persone intercettate in mare una vicenda questa che riaccende il dibattito sulle modifiche ai decreti sicurezza su cui domani sera al Miminale ci sarà una nuova riunione continuano intanto gli sbarchi a Lampedusa con trasferimenti previsti anche per oggi verso Porto Empedocle sbarchi più o meno consistenti ma costanti alcuni dei quali come in queste immagini avvenuti sotto gli occhi dei bagnanti e che destano apprezzione anche nel primo cittadino dell'isola Salvatore Martello che ha riferito di essere molto preoccupato per l'ordine pubblico a Lampedusa prima o poi ha detto il sindaco succederà qualcosa arriva anche il monito dell'ex ministro dell'interno Marco Vigniti per cui la sfida della salute pubblica portata dal covid rischia di diventare un'arma in mano ai nazionalpopulisti per cancellare i principi di accoglienza intanto arrivano i dati del nuovo rapporto pubblicato oggi dall'Agenzia ONU per i Rifugiati e dal Mixed Migration Center del Danish Refugee Council secondo cui finora nel 2020 oltre 6.200 rifugiati e migranti sono stati riportati in Libia dopo essere stati intercettati dalla Guardia Costiera libica mentre tentavano l'attraversata via mare per l'Europa E adesso l'inchiesta sulla fornitura di camici alla regione Lombardia ieri è stata perquisita all'azienda Dama diretta dal cognato di Fontana mentre gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sul flusso di capitali sui conti svizzeri del governatore L'ufficio legale di Aria alla centrale acquisti di regione Lombardia aveva dato parere negativo rimandando al mittente cioè alla società Dama del cognato del governatore Fontana la disponibilità inviata via mail a regalare i camici c'è anche questo documento negli atti dell'inchiesta milanese che vede indagato il presidente della Lombardia per frode in pubbliche forniture una trasformazione in corsa che ha bisogno di un atto notarile e della presenza di due testimoni per essere definita perché si tratta di una donazione di non modico valore 513.000 euro per 75.000 camici di cui 50.000 consegnati in più c'era anche il conflitto di interessi a favorire il rigetto della proposta cioè la parentela tra il presidente e l'imprenditore cosa nota ai piani alti della regione alla trasformazione d'acquisto in donazione sollecitata da Fontana suo cognato e mai formalmente conclusa seguiva il tentativo da parte del governatore di alleviare in qualche modo l'onere dell'operazione come aveva detto il consiglio regionale 250.000 euro che dovevano partire da un suo conto svizzero ed è questo l'altro fronte che potrebbe portare i magistrati milanesi oltre confine per capire l'origine i flussi che negli anni hanno aumentato il patrimonio del governatore noto avvocato nella sua varese soldi regolarmente scudati da una voluntary disclosure 5.300.000 euro su due conti intestati alla madre gestiti da un trust alle Bahamas e controllati da una fondazione in Liechtenstein ereditati dal governatore nel 2015 quando era ancora sindaco di Varese punti che dovrà chiarire l'inchiesta mentre le opposizioni in consiglio regionale continuano a chiederne le dimissioni in primo piano per quanto riguarda l'economia l'offerta pubblica di acquisto lanciata da intesa San Paolo su Bibanca che si è conclusa con successo e in anticipo Ubi diventa ad intesa San Paolo via libera ieri per l'immediata integrazione dell'ex popolare a due giorni dalla conclusione dell'offerta pubblica conferito infatti il 71,9% delle azioni non servirà dunque la proroga concessa da Consob per la durata dell'Opa dopo cinque mesi dalla presentazione dell'offerta la banca milanese raggiunge e supera la quota del due terzi del capitale che le consentirà di controllare l'assemblea della più piccola rivale e così spianata la strada per il piano di intesa che per soddisfare le richieste dell'antitrust dovrà cedere oltre 500 sportelli a banca popolare dell'Emilia Romagna dopo le resistenze iniziali di una grossa fetta dell'azionariato storico della banca il fronte del no si è sfaldato e le adesioni sono cresciute costantemente ad aderire oltre al mondo del retail e agli investitori istituzionali anche le fondazioni Cassa di risparmio di Cuneo e Banca del Monte di Lombardia i grandi imprenditori bresciani e in ultimo quelli bergamaschi con l'integrazione infatti l'interesse primario d'intesa crescere per raggiungere dimensioni per giocarsela sul piano internazionale e di svolgere un ruolo proattivo nel panorama bancario europeo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rimosso il direttore dell'istituto e il comandante della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino la decisione segue di qualche giorno la chiusura delle indagini preliminari avviate dalla procura di Torino dopo una serie di denunce di maltrattamenti nei confronti dei detenuti l'inchiesta vede coinvolti 23 agenti della polizia penitenziaria che in alcuni casi sono accusati anche di torture situazioni di cui i vertici del penitenziario non solo sarebbero stati al corrente ma avrebbero anche agevolato mettendo di denunciare e pilotando le istruttorie interne e adesso ritorniamo a parlare del coronavirus per fare il punto della situazione sull'andamento della pandemia nel mondo vediamo la pandemia vedrà un'unica grande ondata non ancora conclusa e non avrà un andamento stagionale come l'influenza l'avvertimento arriva dall'organizzazione mondiale della sanità che invita così a non considerare superata la minaccia del coronavirus un punto di vista quello dell'OMS da leggere alla luce di dati globali ancora allarmanti quasi 16,7 milioni di contagi totali raddoppiati nelle ultime sei settimane in testa alla triste classifica ci sono sempre gli Stati Uniti dove gli infetti sono ormai oltre 4 milioni e solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1600 decessi il numero più alto degli ultimi due mesi e mezzo cifre che salgono mentre il presidente Trump annuncia che ci sarà presto un vaccino ma definisce notevole una dottoressa nota per aver sostenuto che il DNA alieno venga utilizzato nei trattamenti medici non migliora la situazione nemmeno in Brasile il paese più colpito dopo gli USA ieri lo Stato sudamericano ha contato 40.000 nuovi casi in un solo giorno e 921 morti non solo latitudini lontane il virus preoccupa ancora anche l'Europa dove i numeri sono assai più ridotti ma continuano a spuntare nuovi focolai è il caso del Belgio che ha annunciato un ritorno alle misure di contenimento con un vero e proprio coprifuoco nella provincia di Anversa e della Spagna guardata con attenzione dai paesi vicini dopo il Regno Unito che ha introdotto l'obbligo di quarantena per i viaggiatori in arrivo dalla penisola iberica anche la Germania scoraggia i viaggi turistici nelle regioni spagnole in cui c'è un aumento dei casi Aragona, Navarra e Catalogna intanto gli aeroporti di Berlino e di Hamburgo già da questa settimana faranno test gratis anti-covid per chi torna da zone a rischio adesso lo sport con il calcio ieri due le partite che hanno visto le vittorie di Inter e Atalanta oggi si prosegue con il resto del programma avrà anche un valore platonico ma questo appassionante testa a testa per il secondo posto verrà risolto sabato sera dallo scontro diretto quando nell'ultimo turno di questo sofferto campionato Atalanta ed Inter daranno vita a 90 appassionanti minuti anche ieri le due squadre hanno vinto i rispettivi impegni con gli uomini di Conte che avevano nel Napoli un'avversaria sulla carta più impegnativa ma il gol iniziale del suo difensore D'Ambrosio servito da Biraghi con un pallone che Lukaku non era riuscito a dar più in area a centro area ha spostato gli equilibri dell'incontro a favore dei nerazzurri aiutati dall'abilità del suo portiere Andanovic ma anche da un briciolo di fortuna come in occasione della fortuita deviazione in area con cui insigna all'ambito il palo sul fronte opposto anche Meret si è distinto a fine primo tempo con un colpo di reni prodigioso a deviare in angolo il preciso sinistro di Brozovic meno reattivo invece un certo irresistibile tiro dal limite del neo entrato Lautaro grazie al quale l'Inter ha blindato una vittoria che le permette di conservare il punto di vantaggio sull'Atalanta il cui successo in quel di Parma è stato senza dubbio meno netto che ha infatti legittimi motivi per recriminare la formazione emiliana addirittura straripante nel primo tempo col solito Kulusevski che dopo un clamoroso palo ha capitalizzato anche con un briciolo di fortuna il preciso assist di Gervin Atalanta stanca ma che grazie all'imperdonabile errore della barriera parmense sulla punizione di Malinowski ha trovato il pari a inizio di presa pescando poi il jolly nei minuti finali grazie a Redivivo Gomez autore di un gol stupendo quanto importante per la squadra di Gasperini che approcciano in modo migliore la sfida decisiva di sabato con l'Inter la Lazio non è più la controfigura di se stessa e non si accontenta del quarto posto che per la matematica può evitare con due vittorie una sorta di debito morale dopo essersi costruita con evidenti meriti il ruolo di anti-Juve lo scenario in campo è cambiato sensibilmente lo dimostrano i successi con Cagliari e Verona che hanno riproposto una squadra viva nello spirito e nel fisico le motivazioni del gruppo viaggiano insieme nelle ambizioni di Ciro e Immobile il cui gli sveglio lancia verso obiettivi personali di enorme caratura le 34 Redi lo portano a scavalcare Angelillo diventando il miglior giocatore italiano ad aver segnato più gol in una singola stagione il Brescia è l'avversario ideale per fare legna prima di affrontare il Napoli il record di Higuain è a due passi e può centrare anche la scarpa d'oro l'occasione è propizia anche per Luiz Alberto in lotta per la classifica degli assist sono residue le speranze del Milan di accorciare sulla Roma per il quinto posto quattro punti di svantaggio per evitare i preliminari c'è l'impegno con la Sampdoria da onorare ma indubbiamente nell'ambiente milanista si lavora per il futuro il progetto è di competere per il ritorno in Champions e per il tecnico Pioli al momento le priorità sono i rinnovi di Cialanoglu Donnarumma e Ibrahimovic Zlatan avrebbe espresso la volontà di proseguire con il Milan 18 presenze stagionali e 8 gol e un indizio arriva dal suo facione come testimonial nella presentazione della nuova maglia che sarà indossata nell'ultima contro il Cagliari la Roma rinvigorita cerca in casa del Torino il pass per l'accesso diretto ai gironi di Europa League turno aver limitato con Carles Perez e Zagniolo che si contendono al posto di Pellegrini operato al naso e da valutare per la sfida con il Sevilla viaggio in Sardegna per i campioni d'Italia con spazio alle riserve ma il pensiero fisso è diventato il lione da affrontare il 7 agosto Di Bala al lavoro dopo l'elongazione alla coscia per non mancare un appuntamento così importante nel Cagliari convocato Pavoletti dopo due operazioni al crociato nel programma della 37esima Sassuolo Genoa e Udinese Lecce potrebbero dire ancora qualcosa per le residue e speranze ed è tutto ora le informazioni sul traffico con Camilla Delai e poi il meteo di Paolo Sottocorona e il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pennacchioli vi auguro una buona giornata